Ciao a tutti, io sono Raffaella e sono la mamma di Leonardo, questo ragazzone autistico grave di 19 anni. Oggi è la giornata internazionale della consapevolezza dell'autismo. Cosa voglio dirvi con questo? Oggi 2 aprile ci saranno tante manifestazioni, tanti conveni, lanci di palloncini, post su Facebook, catene infinite di post su Facebook, Instagram, trasmissioni televisive, convenioni in cui ognuno dirà la sua sull'autismo. E io invece volevo darvi solo un po' di dati e dirvi alcune cose. 1. L'autismo oggi investe un bambino ogni 66 nuovi nati, quindi se pensate che non vi riguardi, forse avete sbagliato un po' i conti, perché nel vostro condominio, nel vostro quartiere ci può essere una persona con autismo. 2. L'autismo colpisce più i maschi che le femmine, quattro volte di più. Ha per questo che ci sono tanti maschi rispetto alle femminuccia. 3. L'autismo è una questione di famiglia, perché investe non soltanto una persona che ne è colpita, ma tutta la sua famiglia, mamme, papà, nonni, fratelli, che ogni giorno si sobbarcano il carico di queste persone. 3. Se volete parlare di autismo, per prima cosa informatevi, studiate, imparate tutti i livelli di funzionamento. Se volete parlare di autismo, non lo spettacolarizzate, conoscete le famiglie, entrate nelle loro case, imparate a vivere con queste persone. 3. Non lanciate i palloncini il 2 aprile, non scrivete i post su Facebook. Piuttosto, tutti gli altri 364 giorni dove le persone come me e tanti genitori come me combattono a che i diritti dei propri figli vengano rispettati, beh, lavorate insieme a queste persone. Cosa voglio dirvi? Scendete dall'altare che vi siete costruiti, scendete dal podio sul cui state, da dove pretendete di parlare di autismo, e andate a conoscere le realtà del vostro paese, cercate le famiglie con una persona con autismo. Quando riuscite a passare anche solo mezz'ora con uno dei nostri ragazzi, allora potrete dire di aver conosciuto veramente l'autismo. Quindi per noi la giornata della consapevolezza, per me la giornata della consapevolezza, non serve a nulla. Oggi sarò spenta, sarò offline, mi dedicherò a mio figlio, e per essere attiva e online tutti gli altri 364 giorni. Ciao a tutti, saluta Leonardo! Ciao ciao!